E' possibile anche oggi vedere Gesù crocifisso nei Cristi umiliati dalla prepotenza e dall'ingiustizia, da guadagni iniqui fatti sulla pelle degli altri nell'indifferenza generale. E quanto ha sostenuto Papa Francesco nelle meditazioni durante la Via Crucis al Colosseo nel Venerdì Santo, firmate di suo pugno quest'anno per la prima volta nel suo pontificato. Nella serata di ieri Bergoglio è rimasto a casa Santa Marta per preservare la salute in vista degli appuntamenti di oggi e domani. Al Colosseo, invece, sono stati circa 25.000 i fedeli presenti. Ora capisco questa tua insistenza nell'immedesimartico i bisognosi, ha detto il Santo Padre rivolgendosi a Gesù. Tu sei stato carcerato, straniero, condotto fuori della città per essere crocifisso. Tu sei nudo, spogliato delle vesti. Tu, malato e ferito, tu, assetato sulla croce e affamato d'amore. Francesco ha poi guardato alle donne, come quelle al Calvario, che non hanno voce ma si fanno sentire. Aiutaci a riconoscere la grandezza delle donne, ha ribadito. Loro che a Pasqua sono state fedeli e vicine a te, ma che ancora oggi vengono scartate, subendo oltraggi e violenze. Infine, una preghiera per coloro che sono offesi sui social, ma anche per i bimbi non nati e quelli abbandonati. Per i tanti giovani, in attesa di chi ascolti il loro grido di dolore. Per i troppi anziani scartati, i detenuti e chi è solo. Per i popoli sfruttati e dimenticati.